Siamo a Sanremo, Radio Bruno Tutti cantano Sanremo E siamo ancora qui nell'area stile, nell'hotel Royal di Sanremo e siamo qui con i Mosec Ciao ragazzi! Ciao! Ciao, allora, ti chiamano ancora Mosec? A volte capita, sì 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 Mosec oppure Mosec Mosec Ci hanno anche chiamato Mosec Bio perché c'era Mosec e poi barra Bio per la nostra biografia Quindi, insomma Sì sì, bellissimo momento Nome più storpiato della musica italiana Dà la possibilità di, insomma, di sfruttare la fantasia, ecco Cosa vuol dire Mosec? Allora Che significa? Ha la storia, questo nome Dunque, ha un significato molto profondo Insomma, molto importante Parliamo di filosofia in questo caso Siamo proprio di filosofia Significati ancestrali Significa Mocerco Mosec Sì, sic, cercare Mosec Perché stavo al telefono qualche tempo fa Insomma, quando la formazione era appena nata E stavo al telefono con un mio amico che organizzava un evento Serviva il nome della band Non lo avevamo ancora E questo mio amico mi disse al telefono Guarda Elisa, mi serve il nome da mettere sulla locandina E tu? Dissi, guarda Mocerco Poi, insomma, vediamo Ho pensato Mosec Cercare Guarda, scrivi Mosec Poi al massimo lo cambiamo Invece Invece poi è rimasto È rimasto quello I fan vi hanno conosciuti a X Factor E poi hanno continuato a essere in contatto con voi Con i vostri live Perché siete spesso in giro per l'Italia E soprattutto con i social network Sì, diciamo che c'è un grande affetto Ci scrivono sempre Aspettano l'album I pezzi nuovi I video I video di ieri che facciamo E quindi c'è molta C'è veramente un grande affetto E ci sostengono proprio Quindi abbiamo instaurato un legame Che vogliamo coltivare, insomma Elisa, allora, svegliamo ai fan Che ci stanno guardando attraverso il canale YouTube di Radio Bruno Quando uscirà l'album E se si può dire anche qualcosina in più Qualche anticipazione Allora, uscirà l'album in primavera Insomma, con una bella stagione Insomma, album in primavera Prima dell'uscita dell'album Faremo dei concerti Qualche data in giro per l'Italia In cui andremo un po' a testare Quelli che sono i pezzi che faranno parte dell'album E faremo un po' un gioco di scambio Con il pubblico Con i fan che ci verranno a sentire Chiederemo dei feedback sui pezzi Che faranno parte del disco E quindi ci sarà un po' questo gioco Li faremo sentire parte integrante del progetto Praticamente faranno parte Ufficialmente del vostro nuovo progetto discografico Adesso da Sanremo Voi partite E vi aspetta una bella serie di live Vogliamo ricordarli Sì, intanto questa sera proprio Staremo a Luca Al Wild Sì E insomma poi la prossima settimana saremo vicino Rimini E niente Ovviamente poi parallelamente ai concerti Stiamo in studio a concludere le ultime cose dell'album Grazie Allora intanto vi consiglio di seguirli sui social network Mosik Scritto Mosek Con la K finale E di seguire Lo dico da donna Di seguire anche i look di Elisa Perché ha sempre dei look pazzeschi Grazie Dall'Aria Stile è tutto Grazie Mosik Grazie a voi Grazie a voi